Questa è una breve guida e presentazione del progetto OnionMail. Verranno spiegati i passi principali, ma se volete avere tutte le informazioni corrette, inviate al vostro server di fiducia un messaggio con il soggetto la parola RULETS. Vi risponderà con la guida di OnionMail e le regole del server che intendete usare. Per fare questo non è necessario avere un indirizzo di posto a OnionMail su quel server. Prima di tutto occorre fare una breve introduzione sulla rete Tor. Tor è una rete che consente la comunicazione attraverso internet in modo criptato e nascosto. La comunicazione viene fatta passare attraverso diversi server e alla fine raggiunge il destinatario. Ovviamente all'interno di questa rete è possibile anche creare dei servizi nascosti chiamati Hidden Service che sono dei servizi fatti in modo che non si riesca a scoprire dove si trova il server. Noi oltre ad utilizzare Tor per questi suoi interessanti aspetti, lo utilizziamo anche perché a tutti gli effetti è un'altra rete. Un'altra rete di telecomunicazioni. Un'altra rete di telecomunicazioni dove nemmeno l'NSA è riuscita a fare le sue intercettazioni all'interno della rete. Ha avuto risultati molto scarsi. Quindi tutto sommato possiamo utilizzare questo metodo per comunicare in modo sicuro. Ma ricordatevi, Tor non è l'Elisir di lunga vita. Quindi la vostra privacy e il vostro anonimato è tutelata solo a livello di trasporto dei dati. Poi sta a voi non rivelare o non utilizzare la stessa connessione identica prima di aver cambiato identità o di fare altre situazioni o produrre altri dati che in qualche modo possano identificarvi o discriminarvi. Ora vediamo che cosa avviene durante una navigazione internet normale. Come potete vedere in questa figura riproposta dal sito Electronic Frontier Foundation diversi soggetti a vario titolo, soprattutto malintenzionati o agenzie che fanno operazioni clandestine possono intercettare le nostre comunicazioni. Non solo nel contenuto ma anche individuare la nostra rete di amicizie sapendo con chi comunichiamo. Ora vediamo che cosa succede quando navighi con Tor e HTTPS oppure SSL, cioè usando la crittografia in generale. Praticamente quello che succede è che i vari soggetti riescono a capire al massimo che tu ti stai collegando a Tor. Possono sapere al massimo il quantitativo di dati che in via ricevi, ma non possono sapere a cosa ti stai collegando. All'uscita di Tor non è possibile sapere il tuo indirizzo di rete e quindi non possono sapere che sei tu che ti stai collegando a quel determinato sito, a meno che tu non lasci in chiaro delle informazioni che ti identifichino. Detto questo, torniamo un attimo indietro a Onion Mail. Onion Mail è un server di posta che utilizza Tor come connessione principale di rete. Naturalmente questo sistema non ti impedisce di comunicare attraverso la rete Tor con persone collegate alla rete Internet e viceversa, mantenendo una compatibilità con i programmi di posta e tutto il resto delle email del mondo. Quando i messaggi sono inviati da e verso la rete Tor, passano attraverso il server di Onion Mail e non vengono mai salvati sui server di passaggio. Il collegamento è criptato con SSL ed è criptato a sua volta in una situazione tipo cipolla, come se fossimo in una rete Tor dentro alla rete Tor. Quando un utente della rete Tor deve comunicare con un utente della rete Internet, i server di Onion Mail cambieranno l'indirizzo in modo che la rete Internet lo possa capire, consentendo di far passare il messaggio. Viceversa, se un utente Internet deve comunicare con un utente Tor, sarà fatta l'operazione opposta. Qual è la differenza principale tra Onion Mail come server di posta e altri server di posta come Exim o Postfix messi dietro la rete Tor? La prima differenza è che Onion Mail riesce a comunicare senza problemi tra Tor e Internet, Internet e Tor, senza porsi troppe difficoltà. La seconda differenza è che obbliga alla criptografia dei messaggi, cioè i messaggi sono criptati con chiavi a 2048 bit. Un'altra differenza interessante è che ogni utente ha la lista anti-spam personalizzata e che può segnalare direttamente comunicando col server, attraverso una normalissima email, quale messaggi non devono più arrivare. Un'altra differenza fondamentale del server Onion Mail è che è criptografato completamente. Tutti i file sono criptografati con almeno 5 chiavi AS a 256 bit e 2 chiavi asimmetriche di tipo RSA a 2048 bit. Le chiavi AS a 2048 bit sono diverse, una per ogni utente e a loro volta sono criptate dalle password, che sono diverse per leggere e scrivere i messaggi, dei singoli utenti. Quindi ogni utente ha una chiave asimmetrica per la propria casella di posta. Quindi che cosa accadrebbe? Che cosa accadrebbe se qualcuno trovasse le chiavi del server? Beh, questo è ancora più difficoltoso perché le chiavi, di solito, se il server è settato bene, non si trovano nemmeno sul server. Il server di Onion Mail, quando parte, negozia con gli altri server delle FDX, cioè delle funzioni criptografiche che lui non conosce. Lui sa semplicemente che dando un determinato tipo di dati otterrà una risposta. Queste risposte passeranno a una formula di derivazione delle chiavi e deriveranno la chiave del server. Però gli altri server, per poterti dare una risposta, vanno a controllare quanti crediti tu hai a disposizione. Solo il gestore del server attraverso il certificato di autodistruzione può stabilire quando e quanto il server si può accendere, per così dire. Che cosa succede se rubano un server? Se rubano un server è molto semplice. Basta che il sysopt, cioè l'amministratore di sistema, mandi una mail a un qualsiasi server col certificato di autodistruzione e tutte le FDX saranno distrutte e non sarà più possibile avviare il server in questione. Ma che cosa succederebbe in questo caso? Succederebbe che i nomi dei file sono degli hash, quindi dai nomi del file non riesce a sapere che cosa sono o a quale persona sono collegati. Non si riesce a sapere il contenuto perché le chiavi sono strutturate ad albero e sono tutte generate con le FDX. Quindi sarebbe perfettamente inutile sequestrare o rubare un server. Ma c'è un'altra situazione in più, che anche se si riuscisse ad avere le chiavi del server non si avrebbero le chiavi private delle singole mailbox che sono all'interno del server ma sono criptate dalle password degli utenti e quindi risulterebbe molto difficile la lettura dei messaggi e sapere quali sono gli utenti. Anche perché tutti i nomi degli utenti sono inseriti dentro attraverso degli hash basati sulla chiave e quindi non è possibile tirare fuori. Al massimo si può tirare fuori la lista delle mail, delle mail in lista e i blocchi degli spam senza sapere a chi sono associati. Quindi è tutto sommato un sistema abbastanza sicuro. Naturalmente poi ci sono dei protocolli che vanno a verificare quando il server viene avviato, quando viene cambiato il certificato SSL o se ci sono delle anomalie e questo è controllato sempre dagli altri server. Naturalmente è possibile attraverso la connessione POP3 avere il codice di RAN. Il codice di RAN è una stringa assolutamente casuale che cambia ogni volta che il server si avvia. Qui, se viene cambiato software o viene riavviato, l'utente se ne accorge. Viste tutte le informazioni che vi ho dato sul perché utilizzare Onion Mail, non ci resta che capire che cosa succederebbe se alla fine decrittassero i messaggi. Assolutamente nulla perché i messaggi a loro volta sono crittati con PGP, cosa che vi consigliamo di fare. Si può comunicare con il server attraverso messaggi crittati perché il server ha una mail propria e supporta anche inattivamente la possibilità di crittare messaggi con chiavi fino a 16.384 bit. Quindi chiavi tutto sommato molto sicure. Quindi se anche riuscissero a tradurre il contenuto del server, poi bisognerebbe vedersela con i singoli messaggi crittati con PGP. Ma che cos'è PGP? Vediamo ora come funziona la posta elettronica crittata. Ora è il momento di spiegarvi l'uso della posta elettronica in modo crittato e semplice. Ci sono programmi come per esempio PGP o le sue alternative open source che consentono di crittare i messaggi. In questo modo saranno crittati con delle chiavi asimmetriche e non sarà possibile o comunque facile per i malintenzionati leggere i vostri messaggi o spiare la posta. Naturalmente ci sono dei programmi che già supportano questo sistema come per esempio ClawMails e anche K9 Mail una volta installato a PG su Android. La prima cosa da fare è partire da chi siamo. Quindi dalla nostra chiave. Quando utilizziamo programmi di crittografia come PGP dobbiamo generare una coppia di chiavi che in realtà è come se fossero una. È la nostra chiave di comunicazione. Questa chiave sarà divisa in due parti una pubblica e una privata. Quella privata serve per decrittare i messaggi e per firmare i vostri messaggi. Quella pubblica serve per crittare i messaggi e verificare che i messaggi siano firmati dalla persona giusta. Altri fattori importanti sono appunto il nome, l'indirizzo email e l'identificativo della chiave che voi avete generato. Ma non dimenticatevi mai di confrontare il figure print che sostanzialmente è l'hash della chiave. Cioè se viene modificato anche un singolo bit della chiave quello cambia ed è un metodo buonissimo per verificare se la chiave è quella giusta o qualcuno ha generato una chiave falsa per la persona con la quale state comunicando. Per poter comunicare con qualcuno quindi avete bisogno della sua chiave pubblica. Ma questo vale anche per voi. Quindi bisogna scambiarsi le chiavi. Per questo esistono i server delle chiavi che condividono tutte le chiavi pubbliche in modo che le persone possano essere cercate e ritrovate per poter comunicare in modo crittato. Mostrate tutte queste bellezze tecnologiche che sembrano abbastanza criptiche resta la necessità di utilizzare tutte queste cose in modo abbastanza semplice e rapido. Cerchiamo di arrivare al dunque di concludere tutto in un'operazione semplice e rapida che l'utente possa utilizzare con un sistema che fa quasi tutto per lui. Questo sistema si chiama Tails è una distribuzione Linux che si avvia da una chiavetta USB e può essere installata addirittura su un'altra chiavetta USB in modo virale. Si può scaricare liberamente e si verifica e si può far partire al posto del sistema del computer senza alterare il sistema o installare alcun software sul computer originale a meno che non stiate usando una piattaforma Mac che ha delle grandi limitazioni. Appena parte Tails si collega ad Internet si collega direttamente attraverso Tor e questo ha già risolto metà di quello che vi abbiamo raccontato in questo filmato. Se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di attivare la persistenza dei dati altrimenti Tails dimenticherà tutto quello che avete fatto. Ora vi spieghiamo come creare un indirizzo Onion Mail sulla nostra rete di prova. Se hai già un indirizzo di posta impostalo su Cloud Mail in modo che puoi leggere i tuoi messaggi. A questo punto generi una chiave pubblica e privata per il tuo indirizzo. Basterà inviare un messaggio in chiaro al server che sarà sempre server chiocciola l'indirizzo di 16charatteri.onion naturalmente sarà server.l'indirizzo di 16charatteri.onion chiocciola onionmail.info se vuoi farlo con un altro client ti posta da Internet. Il soggetto del messaggio deve essere new user, nav user tutto attaccato, spazio il nome dell'utente senza quello che deve esserci dopo la chiocciola che tu puoi creare. Nel corpo del messaggio incolla la tua chiave pubblica. Il server ti risponderà entro 200 secondi con un messaggio di posta crittato. Tu lo potrai leggere perché il client di posta lo decryterà automaticamente e dentro troverai le informazioni su come impostare Cloud Mail per la ricezione dei messaggi e per l'invio dei messaggi attraverso la casella di posta on-on-mail. Se però tu non intendi utilizzare un'altra mail di passaggio perché non vuoi essere tracciato esiste un altro metodo anche se un po' più macchinoso che sarebbe molto più sicuro e più nascosto per attivare le mail di Onion Mail in modalità nascosta. Ecco come si può fare sui nostri server. Ce ne sono molti altri che avranno sicuramente delle metodologie diverse. Prima di tutto su Tails andate su questo menu per creare la vostra coppia di chiavi pubblica e privata. Dopo essersi procurati l'indirizzo di 16caratteri.onion naturalmente potete procedere con la creazione della chiave impostando già la mail che intenderete attivare. Una volta creata la chiave selezionatela con l'intasto destro e cliccate su Coppia in modo da copiare la chiave negli appunti. Andate su questo indirizzo con il browser e compilate questa finestra in cui bisognerà reinserire il codice numerico per verificare che non siate un bot. ovviamente noi diamo per scontato che voi non abbiate un indirizzo di posta quindi tralasciate la parte dell'indirizzo di posta stabilite qual è il nuovo utente e stabilite su quale server collegarsi. Dopodiché incollate la chiave e viene fuori quella cosa lì che vedete. In 200 secondi il server genera le chiavi crittografate per il vostro utente e vi ritornerà un messaggio crittato in PGP che dovete tradurre con la riga di comando. Se invece avete già un indirizzo di posta non dovete fare altro che specificare l'indirizzo di posta e vi arriverà direttamente un messaggio crittato. Questa è la modalità più complessa che forse potremmo considerare utile per gli smanettori. Naturalmente per gli utenti normali si consiglia di utilizzare l'altra modalità inviando semplicemente un messaggio. In fin dei conti qual è il server di posta che vi crea una nuova email quando vi inviate un nuovo messaggio o un email. Proseguendo con il metodo nascosto da smanettoni si copia il contenuto del messaggio crittato e lo si salva sul nuovo file di testo per esempio sul desktop dove volete. Per tradurre il messaggio basta andare sul terminale posizionarsi nella stessa cartella dove c'è il vostro file di testo e digitare gpg-decrypt e il nome del file contenente il messaggio crittato. A questo punto quando batterete invio vi verrà chiesta la passphrase che è quella per sbloccare la vostra chiave privata e digitandola magicamente a terminale apparirà il messaggio. Ovviamente nel metodo più facile riceverete semplicemente il messaggio e il vostro client di posta lo aprirà chiedendovi al massimo la vostra passphrase per bloccare la chiave privata. A questo punto prendiamo clowmail e andiamo ad impostare i parametri come scritto nel messaggio cioè quale è il server di posta il server di tipo pop3 di usare start tls per l'smtps tls per il pop3 cioè la crittatura e naturalmente le due password diverse per la lettura dei messaggi e per l'invio dei messaggi. Le password possono essere lunghe alfanumeriche e piene di caratteri e vi consiglio di salvarle perché sarà l'unico modo con il quale potete accedere alla posta perché se ne perdete non c'è un password reminder quindi magari lo salvate in un file nella cartera della persistenza per sicurezza. Una volta impostato tutto è possibile comunicare con il sistema onion mail quindi con questi due metodi siamo riusciti a fare contento l'utente facile che attraverso un'altra mail può ricevere un messaggio crittato con le informazioni e anche gli utenti smanettoni che se vogliono smanettare un po' col terminale possono tranquillamente divertirsi. Prima di iniziare tutto vi consigliamo di inviare un messaggio al server con il soggetto la parola event il server vi risponderà con un altro messaggio contenente la chiave pubblica soprattutto i certificati e lo shauno dei certificati per la verifica. Subito dopo l'escrizione vi consiglio di inviare al vostro server un messaggio con la parola roulettes vi manderà indietro un messaggio di testo con la guida di onion mail e le regole del server che state utilizzando. Onion mail è un server di posta open source i sorgenti li trovate su gtab e se vi sentite abbastanza smanettoni da creare un nuovo server onion mail potete compilare o installare il programma su un server ed aprire un nuovo hidden service anche perché per craccare onion mail oltre a tutto bisogna anche craccare tor e quindi gli indirizzi sono abbastanza protetti. Oltre a tutto ciò se volete creare un server di entrate e di uscite è necessario che sappiate esattamente cosa state facendo perché è la stessa cosa che aprire un nodo di uscita tor se non volete utilizzare completamente tor per collegarvi per ricevere la vostra mail potete mettere sul vostro computer il programma ntu che consente di collegare alcuni indirizzi su tor e altri indirizzi sulla rete normale in modo da avere un sistema ibrido la stessa cosa può essere fatta su un server per nascondere meglio un hidden service per esempio si potrebbe mettere un server con ntu come abbiamo fatto noi che manda da un server diciamo per così dire pubblico le connessioni attraverso tor su un server privato che è quello vero e poi naturalmente aprire un server vero e proprio che è quello dove ci sono le caselle di posta e questo potrebbe essere un sistema sicurissimo per nascondere onion mail vi sconsigliamo totalmente di mettere sulla stessa macchina in cui fate il nodo di entrate e di uscita dei server che abbiano gli utenti registrati perché onion mail tra le altre cose consente di creare istanze di server multipli sulla stessa macchina ed è scritto in java e compilato con gcj proprio perché così possa essere compilato ed eseguito su qualunque piattaforma ci auguriamo che il servizio di onion mail possa dare la privacy a tutti gli utenti e soprattutto di arginare il fenomeno delle intercettazioni clandestine fatte da chi che sia senza l'autorizzazione di uno stato ah c'è solo un piccolo problema di onion mail impedisce anche quelle vere e proprie e beh d'altra parte con la criptografia la privacy e l'anonimato se si usano sistemi così forti non c'è altra via potevano garantire la nostra sicurezza prima di bruciarsi le intercettazioni non vi pare buon divertimento con onion mail non c'è altra parte non c'è altra parte